ciao ragazzi e benvenute nella mia stanza creativa allora prima del tutorial della big shot vi voglio mostrare perché vi devo consegnare dei nastrini fatti da me perché devo chiudere delle buste per un matrimonio quindi in questo video piccolino vi farò vedere come fare i nastri da sole anche sotto natale vi far vi sarà molto utile questo tutorial quindi non lo perdete bando alle ciance e partiamo subito subito con il tutorial ragazzi è un momento un momento prima di cambiare inquadratura perché ve la voglio far vedere da vicino vi voglio dire come preparare il tessuto quindi voi misurate se fate con un ago solo misurate un tre centimetri cioè nel senso che fate una cucitura centrale sola non deve essere più largo di tre centimetri state che troppo trovo il capo ecco qua misurate tre centimetri si fa una bella tacchetta ecco qua e poi si va di strappo perché deve essere un effetto ragazzi ecco qua vedete ha l'effetto strappato sia sul lato che sull'altro mai fare il taglio con le forbici utilizzate questo è un panama verdino ne ho fatto un altro mistolino eccolo qua utilizzate che sfilaccia è bello perché dal senso del vintage dal senso diciamo di una cosa preziosa ma non deve essere quelli stampati quei tessuti stampati di poca qualità ok deve essere leggero e comunque un tessuto buonino va bene e adesso vi faccio vedere come procedere eccoci qua ragazze allora ho preparato la mia striscia adesso l'ho da mettere sotto piedino e la metterò col piedino centrale al tessuto dopodiché ci andiamo a scegliere il punto voi scegliete il punto che avete nella vostra macchina io adesso mi vado a scegliere facciamo il cino ok il 63 questo qui che è molto carino quindi vado nella macchina vado a mettere l'impostazione eccola qua aspettate che sto tutta cliccata vado a mettere pattern 1 metto 63 lunghezza 2 io me l'allungo a 3 la larghezza la lascio 5 voi fate le prove come vi piace di più ragazzi la vita è fatta di prove adesso iniziamo a cucire ho messo un filo tortora per risaltare un pochino e questo va avanti tranquillamente poi vi faccio vedere alcuni già li ho fatti e va avanti così in realtà non c'è bisogno neanche di tenerlo il tessuto è perché se la macchina è bilanciata bene va dritta da sola e vedete va da sì va dritta da sì però basta comunque starci un attimo dietro e fa il tutto stiamo finendo adesso ragazzi guardate quanto è bello questo con un filo dorato ragazzi è di una bellezza infinita io lo adoro questo punto qui lo adoro poi se utilizzate il doppio ago se utilizzate l'ago triplo vi viene anzi con lago triplo potete anche giostrare con un uno più largo se magari vi occorre io adesso come al solito me lo vado a stiracchiare perché guardate stirato a tutto un altro effetto come tutte le cose ecco qua e poi ve lo mettete via adesso vi faccio vedere alcuni che ho già preparato ecco qua allora guardate con lo stesso punto poi sto facendo di legno i porta nastrini i porta merletti poi vi farò vedere questo lo devo ancora dipingere vabbè guardate è lo stesso punto guardate che effetto diverso che fa guardate poi qui invece sono andata a fare dei fiori anche questo è molto molto carino guardate che cos'è di una delicatezza infinita poi qui questa era una prova sempre con lo stesso punto guardate poi ho usato questo è un panama quello che avevo detto prima ho fatto vedere come l'ho tagliato qui ho usato essendo verdino una foglietta una vuota e semipiena eccolo qua e poi guardate qui che cosa ho fatto ho fatto una combinazione di punti vedete sono due cuori distanziati questo è un motivo molto carino che non troverete qui sulla macchina già impostato nella scheda diciamo della memoria perché l'ho impostato io volevo farvelo vedere in questo tutorial ma poi ma magari vi diventa difficoltoso poi andarlo a trovare quindi farò un tutorial a parte come programmare i punti così ve li potete inventare voi va bene io credo che sia un'ottima idea specialmente a natale quando dobbiamo andare a fare i pacchi fiocchetti nelle nostre decorazioni che i merletti costano un occhio della testa specie sulle cose decorative che non dobbiamo andare a lavare un fuori porta fate un fiocco no con il dorato guardate che cos'è c'è è uno spettacolo ragazzi io vi consiglio intanto che è in estate quando avete ecco dei piccoli campioni perché questo per esempio era una striscetta che avevo me la sono andata a decorare e sicuramente ci posso fare un fiocco perché no chi ce lo vieta nessuno 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 ci vieta niente ragazze organizziamoci perché si possono fare dei lavori meravigliosi ecco si ricicla un po il tutto e ecco qua poi insomma uno poi sistema per bene io perché non lo voglio tagliare adesso e i fiocchetti sono belli piccoli eccolo qua nelle decorazioni ragazze starà benissimo ecco qua io tanto poi me lo ristiro guardate che carino lo potete fare in vari modi con il filo dorato è il top va bene allora ragazze io spero che questa idea del dei fiocchi dei nastri fatti da noi anche con dei pezzettini di stoffa che abbiamo perché ce n'abbiamo gran tanta ce la possiamo preparare da sole per fare dei pacchetti per chiudere come devo fare io dei delle partecipazioni e ma si possono anche uscire perché se voi li fate e poi cucite sopra e sotto con un punto stretto due barra due e mezzo anche la cosa che sfiaccia si blocca poi alla fine quindi possiamo anche andare a decorare alcune cose ma per esempio le decorazioni da appendere che non devono subire lavaggi lavaggi tipo i fuori porta tipo qualche decorazione di un centrotavola che poi non andiamo a lavare ma va solo spolverato li possiamo utilizzare tranquillamente quindi spero di avervi fatto cosa gradita e niente vi adesso vi saluto vi strizzo tutte non forte abbraccio sto preparando il tutorial della big shot ma credo che farò oltre questo vi farò vedere la chicca è la chicca del trucchetto di cuscito come inventarci un punto nuovo con i punti che già sono in macchina certamente è per le macchine elettroniche ma io devo aiutare un po tutte va bene un bacio e a prestissimo non vi dimenticate mai che vi la condividete ciao